Buongiorno a tutti i miei presentatori, Luigi Melo, della Mara, Aldo Viadene, e il gruppo del professor dell'Università di Suceava, che abbiamo fatto i collegi tei, di Nazionale. Sono iniziato a salutare altri amici, giornalista di Aldo Viadene, non ho capito il nome di Luigi, e poi i rappresentanti della Cattedra di Italiana dell'Università di Suceava, e che sono iniziato a presenti in Italia. Voi da citire unui 14 materiali pe care l'am pregatit? In giro materiale breve che ho già preparato. 5 minuti. Ca si poter, vorbe astăzi di realizzare a queste seczioni di carta in lingua italiana, a trebuiti a trăiesc l'experienza emigrazione. Per poter arrivare a parlare dello scaffale dei libri romani e dei libri italiani, qui sono dovuto vivere l'esperienza di emigrato in Italia. Ca omul care a petrecut o mare parte a vieții, in spazul cultural, dintre cărți, poeti, scritori, actori, artiști, cum e un...